il mio canale oggi nuovo video e mi sono legate i capelli apposta con la molletta perché andremo a fare i trucchi strani sul viso ma lo farò soltanto nella fronte e farò un minions come avete visto se alcuni di voi l'hanno visto avevo fatto sempre da rubrica per i trucchi strani però per la bocca avevo fatto il minions qua che pareva che proprio parlava lui insomma il disegno è stato bello quello tanto mi è piaciuto veramente tanto come era venuto e stavolta lo farò però nella fronte io spero che mi riesce bene come sempre spero che vi piacerà anche a voi e vi lascio grazie a tutti 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 grazie a tutti